L'Almanacco della Fede Di Padre Livio Bene carissimi, noi apriamo la nostra consueta conversazione del mattino con un pensiero spirituale che vorrei un po' centrarlo anche sul 25 del mese quando appunto sentiamo il messaggio e quando appunto la Madonna è al termine del messaggio ci ringrazia per aver risposto alla nostra chiamata e mi viene in mente cari amici una bella affermazione che ha fatto la Gia della Pace l'ha fatta in diverse occasioni quando appunto ci ha spiegato perché la Madonna ci chiama ci ha chiamato e ci chiama perché sta chiamando tuttora cari amici e lei ha spiegato e ci chiama perché l'ha detto tante volte vi ricordate perché ha bisogno di noi vi chiamo perché io ho bisogno di voi e ho detto in un'occasione perché la Madonna ha bisogno di noi ha bisogno di noi perché diciamo il mondo ha preso una deriva che lo porta lontano da Dio e lo porta diciamo sotto l'influsso del principe di questo mondo e tale questa diciamo c'è stata un'accelerazione di questo sbandamento in questi ultimi decenni per cui siamo arrivati a quello che la Madonna ha detto nel precedente messaggio quello del 25 ottobre e cioè che l'umanità ha deciso per la morte morte spirituale, morte fisica quindi praticamente si preclude il futuro e si preclude la salvezza eterna come la Madonna ci ha spiegato più volte allora la Madonna per fermare questa deriva o se vogliamo questa capacità di Satana di sedurre e di attrarre e per cui i risultati li vediamo cari amici soprattutto in Europa direi che ha visto un abbandono della fede cristiana poi sensibilmente dimostrato e direi constatato sensibilmente nel crollo dei battesimi nel crollo della frequenza della Santa Messa insomma una scristianizzazione che è amata bene al di là diciamo da una certa indifferenza religiosa e ha assunto i connotati di una nuova religione una visione del mondo dove non c'è più Dio allora è chiaro che il mondo dove non c'è Dio c'è un altro c'è il principe di questo mondo questi questo non lo sanno la maggior parte di chi si sente libero perché non c'è più Dio non sa che è sotto una schiavitù molto tremenda e che è quella del principe di questo mondo è sotto la dittatura del demonio e l'abitatura del male l'abitatura della morte spirituale, morale, fisica quindi cari amici per frenare questa deriva questa apparente sconfitta di Dio perché comunque le anime che si perdono e che vanno verso la morte spirituale come ci ha detto la Madonna sono una sconfitta di Dio sono una sconfitta di Dio perché lui ovviamente avendo creato l'uomo libero e ha messo di fronte a lui la via del bene e la via del male ed esortandolo alla via del bene chiamandolo sulla via del bene perché Dio chiama Dio invita Dio non costringe non esiste una dittatura di Dio esiste un regno di Dio che è un regno di pace, di amore, di libertà quindi è chiaro che la sconfitta di Dio che è una sconfitta diciamo che in un certo senso come ci ha detto la Madonna tante volte anche Gesù stesso la Madonna con lo suo cuore trapassato da una spada per quelli che non credono Gesù stesso col cuore in mano che è apparso a Santa Margherita Maria La Cocca con una corona di spini intorno al cuore e ha detto questo è il cuore che tanto ama il mondo ma diciamo questo amore non è contraccambiato anzi è vilpeso è disprezzato quindi è chiaro che di fronte a questa deriva delle almi che si perdono e del mondo che sotto l'influsso del demonio sta programmando la sua autodistruzione perché questa è politica cioè sono cose di cui parlano i giornali ogni giorno di fatto anche oggi quindi la Madonna cosa fa? la mobilità non è che cioè interventi interventi della Madonna alla fin fine non sono mai tali da non coinvolgere la nostra libera adesione cioè come Satana ha avuto successo ha avuto successo con la seduzione con l'inganno con questa tattica Satana è riuscito a sedurre le anime la Madonna ci presenta la luce la luce della verità ci presenta il bene ci presenta l'amore ci presenta la vita eterna ci presenta Cristo che è la via la verità la vita e ovviamente attende che i cuori si aprono ci dice che ha bisogno della nostra risposta ci dice che per salvare i fratelli noi dobbiamo mobilitarci quindi cari amici questa è la risposta alla chiamata questa chiamata è talmente coinvolgente e per la Madonna talmente importante che la Madonna già da una quindicina di anni fa possiamo dire ha incominciato a parlare di quelli che rispondono alla chiamata come di i suoi apostoli richiama gli apostoli del suo amore cioè come Gesù ha scelto diciamo fra i tanti discepoli che aveva ha scelto 12 apostoli così la Madonna fra tante persone che rispondono alla sua chiamata sceglie sceglie i suoi apostoli che sono appunto quelli che in modo tutto particolare rispondono si dedicano a lei con tutte le loro forze e diciamo mettono la loro vita al suo servizio insomma quindi anche ovviamente alla risposta alla chiamata c'è tutta una c'è tutta una gradazione insomma però è chiaro che soprattutto per quanto riguarda i sacerdoti la Madonna ha bisogno di una risposta di una risposta molto generosa molto fervorosa cioè la Madonna in un messaggio che viene spesso citato da Miriana ha detto che gli apostoli che per lei i sacerdoti sono un ponte che da ora in questo che da ora cioè prima del tempo dei segreti è un ponte che attraversando tutto il tempo dei segreti porta al tempo della pace e dice cioè saranno i sacerdoti che dovranno guidare i fedeli dovranno sostenere i fedeli dovranno incoraggiare i fedeli dovranno guidare i fedeli sulla strada giusta quindi sono come un ponte che porta diciamo alla alla vittoria finale ma dice appunto Miriana dice lei Miriana commenta proprio questo messaggio dalla Madonna diverse volte lo dice anche nel suo libro mi pare questo suo commento c'è bisogno la Madonna ha bisogno che questo ponte sia particolarmente saldo particolarmente forte cioè per il tempo della grande battaglia della testimonianza la Madonna ha bisogno di tutti ha bisogno di laici ha bisogno quindi anche fra i laici ci sono i suoi apostoli ma in modo particolare ha bisogno di sacerdoti abbiamo di sacerdoti perché perché la chiesa è perseguitata perché la chiesa è sottoposta alla prova come guai se sbandassero i sacerdoti come sbandarono gli apostoli nel tempo della passione insomma per carità anche allora c'era Maria che però insomma è chiaro che voglio dire abbiamo bisogno come c'è stata fino adesso a Meggiugorie di una grande risposta sacerdotale perché Meggiugorie si contrassegna come il santuario mariano si contrassegna come il santuario mariano più frequentato dei sacerdoti di tutto il mondo questo fin dagli inizi anche tuttora sono molti sacerdoti che da ogni parte del mondo vanno a Meggiugorie mediamente sono 5.000 all'anno le concelebrazioni che si fanno a Meggiugorie sono tante e quindi la Madonna ha bisogno ha bisogno diciamo ha bisogno di noi di tutti quindi chiama tutti chiama i giovani chiama i daci le mamme chiama il papà chiama insomma però in modo particolare chiama i sacerdoti perché cari amici perché andiamo verso un momento in cui l'odio anticristiano è così cresciuto nel mondo e non soltanto è cresciuto dappertutto è cresciuto è cresciuto in occidente ma è cresciuto anche in Russia cioè nel Russia c'è proprio l'odio anticattolico insomma detto in parole povere cioè parla apertamente che anche la chiesa da noi ha perso la diciamo così sono solamente loro quelli che conservano la fede insomma c'è anche un odio anticattolico da parte loro che pure sono cristiani e c'è l'odio anticattolico chiaramente in occidente chiarissimo questo non si esprime in persecuzioni come avviene nella stessa Cina dove c'erano i paesi comunisti c'erano i paesi islamici però in occidente c'è un odio sicuramente che si esprime attraverso la cultura attraverso l'insegnamento attraverso attraverso le istituzioni perché anche i vari governi anche l'Unione Europea anche diciamo il governo dell'Unione Europea impone impone ciò che per un cristiano non è accettabile insomma leggevo sta mettere sul giornale che adesso l'Unione Europea vuole impore addirittura la possibilità dell'utero in affitto è chiaro che anche in occidente la perversione diciamo della legge morale ha un supporto politico quindi è chiaro che andiamo incontro a una persecuzione molto variegata la Chiesa Cattolica va incontro a una persecuzione molto variegata potrebbe essere diciamo così le varie espressioni dell'Anticristo nel mondo che fra loro sono opposte però fra loro poi si coalizzano quando c'è da colpire la Chiesa Cattolica quindi cari amici noi in questo contesto con coraggio senza paura senza timore di salvare la propria pelle perché chi farà salvare la propria vita la perderà chi invece sacrificherà cioè risponderà sia alla chiamata la realizzerà non dimentichiamo queste parole di Cristo che le salvezze furbesche e carnali sono sempre sconfitte vince chi dice sì a Dio perde chi dice no a Dio perde chi dice no a Dio e sulla terra e nell'eternità vince chi dice sì a Dio e sulla terra e nell'eternità ricordatevi perché anche le vite dei martiri sono in benedizione per tutti i secoli dei secoli quindi cari amici questo 25 del mese come direi ogni 25 noi dobbiamo ripetere il nostro sia la chiamata che sia mese mese dopo mese sempre più convinto sempre più consapevole sempre più deciso sempre più gioioso perché sono quei sì cari amici che redimono la vita la rendono bella la finalizzano cioè assegnano la vita una missione ed è una missione divina è una missione del regno di Dio è qualcosa di straordinario cari amici ci sono delle persone che magari si vantano perché sono dipendenti di questa o quella società che in borsa sta guadagnando e quindi si vantano si gonfiano perché sono qua noi cari amici allora cosa dovremmo dire noi che siamo diciamo siamo stati ricercati dalla Madonna siamo stati elevati dalla Madonna al rango di apostoli del suo amore siamo al suo servizio siamo al servizio dell'Onnipotente alla fine siamo al servizio di Dio siamo al servizio del suo regno non dovremmo sentirci gratificati non dovremmo sentirci come dire non dovremmo sentire la nostra vita piena di senso di bellezza e di grandezza ma certo e noi dobbiamo proprio essere così cioè siamo apostoli di Cristo siamo apostoli di Maria siamo testimoni della verità testimoni del suo amore siamo umani tese per i fratelli in questo ambito in questa luce la nostra vita che è una luce di eternità la nostra vita ha un valore assoluto cioè vale la pena veramente viverla e consumarsi e sacrificarsi per questo obiettivo che è il regno di Dio cari amici in questo modo la vita non è più banale perché la vita banale è quando la vita è ridotta a rango animale per cui dopo la morte finisce tutto noi invece scriviamo ciò che rimane nella storia cioè tutto cadrà tutto ciò che non è Dio nella storia cade tutto ciò che è Dio che è il suo regno sono le anime salvate sono le imprese dell'amore della verità tutto questo rimane in eterno entriamo in questa luce cari amici e così che sia anche questo 25 del mese un momento in cui noi diciamo sì alla regina della pace quando viene per dire il suo messaggio sappia la regina della pace che guardandoci come le dice vi guardo e qualche volta vedo che siete persi vedo che siete i vostri cuori sono sudici sporchi altre volte avete risposto alla chiamata vedo che insomma che veda che la Madonna qualcosa nei nostri cuori che la rallegra che la fa felice questa sera l'almanacco della fede di padre Livio di padre Livio